Oh, cazzo! Cazzo! Mastarda! Siamo in due, Matteo! Aspetta, ora provo a rientrare! Quindi andiamo in modalità stretta! Dobbiamo visualizzare lo spawner! Vedo qualcosa, ragione! Io sento qualche starazzo! Occhio! Ah, sei tu! Ci sono troppi nemici laggiù! Eh, per quello! Proviamo a passare dalla pianura! Se no, posso fare anche un'altra cosa! Faccio un diversivo! Mi seguono e tu li ammazzo! E' che... Lo spawn continua a tirarli fuori! Se si allontanano! Ampuni qua! Sì! Vediamo che carica! Facciamo il giro! Ci vediamo dietro! Cazzo! 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 Bisogna venire col tondalegno! Cazzo! 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 All'attacco! Mi serve la legna? Cazzo! Eh, vabbè! C'è uno con una stenga qua! Io me ne vado... Comunque non è uno spawn eh! C'era un totem! Cazzo! E che fai in totem? Cazzo! Cazzo! Non lo so! L'ho preso! Occhio dietro! Occhio dietro! Occhio dietro! Via via via! Verso la fortezza! Verso la fortezza! Fortezza! Ho una grossa! No, mi sto a fare uno più uno! Ho uno più una stella! Tu sei un pazzo furioso! Ecco così sei! Lanciano le lance! I pigum! C'è... Ma qua sopra c'ha una stella! F! Porca puttana! Lanciano le lance! Ma te... Uno con una stella mi ha ucciso con lo scudo alzato! C'è... Occhio che mi sa che sta... Fu! Spacca l'angolo eh! No, lo sto a riparare sempre! È tutto full! Ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Funtami di metano nero! Dobbiamo fare una seconda panizzata! No, no, ehm... Portiamo la legna e andiamo al castello, là! Quello che ho liberato! Io ce l'ho da legna! Io ce l'ho da legna! Io ce l'ho... Sessanta di legna! Ok, vai stronzo! Come cosa come non mi ha mai preso PORCUNTI NO Vabbè quello si Madono ho perriato Come ho fatto? Tu gli hai fatto il perri io poi gli ho fatto il colpo critico gigante C'ho la tua eh Ehi pezzo di merda Sai che ti saluta? STAMENCHIA Uh in culo Cazzo maleno No mi sa Mi sa pure che se mi sto ancora rotto Ma ma incazzata nero E' perchè io Qui è pezzo di merda Donna ti avveleno ti do fuoco Oh mamma Ecco Ma io che c'è stato qui Ehm vecchio mami Mamma come fa? Vedi un po' che è drop Vedi un po' che è drop Explosione di energia Metango nero E monete Yungu Sesh Tachig Un lanciatore di lancio Ehm 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 Madonna Ehm no Non son morto Non son morto Ehm infatti ha detto morto E due E che culo Ehm Che dici E' un lenzo Ehm 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 Puoi morire o no? Siamo a distruggire tutto l'universo Cazzo Mi ho otto il cazzo Stanno attaccando qua Mi sa Si Mi sono distruggendo il ponte gli schenete Cazzo Cazzo Due arcieri Gli spadaccini son morti Un anti-arciere sta arrivando Sono sotto attacco Occhio dietro Ok Ok Il motore E' svanito Aia Forca mamma Ehm Ehi da sto lato rigolino Vado a vedere Anche questo C'è su Sul mare Anche questo Eccolo C'è un altro Qua Il motore Si muove Bione ma Oh oh E' vero Canto lancia quelle valle Spuna Spuna Lagende Sì tipo guarda quanto è brutto ma hai preso anche tu il potere, si? si si non lo vedo c'è troppo... c'era la cosa verde e non lo vedevo cazzo i blob cazzo i dani non lo vedo e ho preso l'alberto ci si trova sabate non serve perché io e io ma io come se ci avessi sempre la posizione di dell'antivele 20.000 abomination si è bloccato? si blocca sempre veramente volevo che il gabberale sia bloccato meglio meglio dopo che lo porti a metà vita si blocca faccio la freccia usata ah fangu cosa? io 70 frecce ho usato due fornici come due si perché quante persone ci stanno lui droppa praticamente per usarlo devi metterlo nella 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 barra degli attrizi veloci premi il numero quando è colorato è attivo ah ma qua c'è pure una bella montagna questa dopo che abbiamo riculito quella veniamo da qui a questo eh? poco a rivederci ragazzi che 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 Grazie a tutti